Presidente, un impegno, una donazione che si rinnova? Sì, come ogni anno, ormai negli ultimi anni l'abbiamo fatto praticamente tutti nel periodo natalizio. La Proloco ha deciso di donare dei beni di prima necessità, beni alimentari, qui alla Messa di San Paterniano perché sappiamo che hanno bisogno e di conseguenza il nostro supporto, oltre a dare un supporto alla città, diamo anche un supporto per quanto riguarda la beneficenza e quindi sia la Messa di San Paterniano ma abbiamo anche avuto modo di dare una mano ad altri enti che fanno beneficenza qui in città oltre che anche nel periodo in cui c'è stata l'alluvione abbiamo comunque supportato i nostri amici di Cantiano e di Senigallia quindi insomma la Proloco c'è e ci sarà sempre per dare una mano per queste cose. Una donazione importante soprattutto in un momento di grande difficoltà? Sì esattamente, visto che siamo veramente in difficoltà anche perché stiamo facendo 300 pasti al giorno come poi avete potuto vedere, quindi non facciamo altro che ringraziare la Proloco, il presidente di tutto quello che ci avete donato, che ci hanno donato. Grazie mille.